Ora è ufficiale, la Columbia ha deciso di raddoppiare le dimensioni di una sua vasta riserva amazzonica. La decisione è stata presa per includere i terreni di alcune tribù per tutelare il loro diritto a rimanere isolate e per difendere l'area dalle trivelle alla ricerca del petrolio. La proposta del Columbia National Park Service prevede di espandere così l'attuale parco nazionale Ciribichete a circa 3 milioni di ettari rispetto agli attuali 1,3 milioni. L'espansione del parco nazionale, dichiarato il presidente colombiano, è un impegno per la vita, per la sostenibilità del paese, per il benessere dei colombiani, ma anche per quello dell'intera umanità. Il parco che si trova nel sud della Columbia è stato fondato nel 1989, situato all'interno della foresta pluviale. Il parco Ciribichete offre ai suoi visitatori uno spettacolo faunistico davvero unico con le sue 300 specie di farfalle. Grazie a tutti.